buonasera a tutti quanti domenica 3 luglio 2022 ci sono 29 gradi 29 gradi alle ore e mezzanotte 15 minuti vi auguro una buona serata tutti quanti una buona notte visto che mi siete mancati con i gradi del metro ma mi ha mancato e niente vi auguro una buona serata e buonanotte domani ciao a tutti